Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova reaction, sembra essere uscito il trailer di Kraven il Cacciatore, dico sembra perché adesso vi spiego alla bene meglio un pochino quello che sta succedendo, intanto stranamente stanno uscendo tantissimi video sul canale nonostante il periodo un po' così, comunque oggi sono state liccate le prime immagini del trailer, il logo è qualche immagine così che non ho visto, poi si parlava dell'uscita del trailer mercoledì, questo mercoledì quindi il 21, è stato poi da Sony rilasciato il poster ufficiale con la data italiana 5 ottobre e sarà un film vietato ai minori di 14 anni e infine anche il trailer completo è stato liccato per intero. Io non volevo fare questa reaction per non incorrere magari in qualche problema a reactare a un trailer non uscito ufficialmente, ma poi sono stato informato che il trailer è uscito sul profilo di Sony Canada, quindi quello che vedremo oggi sarà il trailer canadese di Kraven the Hunter, che comunque credo sia semplicemente in inglese, non penso in francese, spero. Prima di iniziare come sempre però vi invito a seguirmi su tutti i social, i link sono nella descrizione, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme anche al link di Pampling, codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis e supportare il canale, per questo vi ringrazio naturalmente. E niente, passiamo al trailer. Oh, sangue, che detta così sembra strana però che... Ok, questo è quello che si vedeva già dalle riprese. Questo, credo sia Russell Crowe, con un accento russo marcatissimo e... Ok. Ok. Ecco, era lui. Fa ridere. Che cos'era, Morbius? Ah no, è una scuola? Sembrava il collegio dove stava Morbius, appunto. La mia madre è morta. Uno di due dovrebbe essere il camaleonte. Sangue fatto male, sfortunatamente, ok. Oh. Sembra fatto bene, Leon, almeno questo. Allora. Sembrava fatto bene, in un momento di movimento sembrava molto finto, però... Comunque, in generale ci sta, mi piace. Oh. Wow. Il leone radioattivo. Finisce come Spider-Man? Qui tanto Spider-Man non ci sarà, almeno in teoria. Vediamo il costume. Da noi 5 ottobre, un giorno prima. Voglio vedere il naso staccato a Morsi, sempre se l'hanno tenuto. Eccolo, 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 eccolo. Fatto di merda, però eccolo, comunque c'è... Il sangue fatto in CGI non mi piace. Ragazzi, almeno questa volta... Questa volta hanno rispettato il vietato a qualche minore, perché comunque in Morbius... Anche Morbius doveva avere molto sangue, essendo un vampiro, non c'è stato sangue. Qui, almeno per ora nel trailer, sembra esserci molto sangue. Fatto male, ma c'è. Questo dovrebbe essere il camaleonte. Fa strano vedere Venom... E questo. Oh, l'esorcista del Papa. Ecco il costume. Nel poster sembrava meglio. Ah, ok, quindi proprio... Va bene. Un superumano a tutti gli effetti. Ok, quindi veramente leone radioattivo. Eccolo qui. Non fanno vedere il look finale di Rhino, va bene. Allora, diciamo che è un... Sì tendente al no, perché effettivamente sì. Hanno rispettato il fatto che ci sarà tanto sangue, sempre se nel film manterranno tutte queste cose. Però fatto in CGI in questo modo non è chissà che granché. Infatti non mi è piaciuto. Però la scena del naso strappato a morsi, ok. Sembra molto violento, questo sì. Ed è praticamente... Come ho detto, fa stranissimo pensare che questo film sia, in teoria, sempre se manterranno questa cosa, ambientato nello stesso universo di Morbius, in cui taglia una gola e il tizio si mette davanti alla telecamera come se stesse uscendo qualcosa, e invece non esce nulla. E Venom, che è un cretino messo all'impiedi, quindi vediamo come ingloberanno anche questo Kraven. Possibilmente il film farà abbastanza cagà. Cioè, non voglio essere così prevenuto, però come visto già da Venom, Venom 2 soprattutto, e Morbius, probabilmente anche questo Kraven avrà i suoi problemi. Ma appunto non voglio partire prevenuto. Magari sarà il film del Sony Spider-Man Universe senza Spider-Man. Sony Spider-Man Universe, come l'ho detto. Senza Spider-Man appunto. Poi vedremo Madame Web, io ho letto la trama di Madame Web, e possibilmente ci sarà qualcosina di interessante. Quello lo attendo, devo ammettere che quello lo attendo. Aspetto però comunque di vedere un trailer, perché può succedere di tutto. Sicuramente io non vedo l'ora di vedere se manterranno questo tono anche nel film. Questo trailer dà un po' la sensazione di film inizio anni 2000, violento, questo sì. Non mi ricorda gli attuali film, gli attuali cinecomic, quelli che escono della Marvel, ma anche della DC. E potrebbe essere da una parte un bene, da una parte un male, perché lo stile sembra molto... Morbius è quel film, era molto anni 2000, però anche se sono convinto che non serva realizzare un qualcosa vietato ai minori per essere bello, quindi non è un plus che ci sia così tanto sangue e così tanta violenza, voglio vedere come la tratteranno. Ma ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Io vi ricordo che questo trailer è solo nel profilo Sony Pictures Canada, almeno per ora, mentre sto registrando. Sicuramente adesso prendo il telefono e ci sono 20 notifiche da tutti gli altri canali Sony. Ecco, infatti, lo sapevo e vabbè. Comunque l'abbiamo visto lo stesso, penso sia lo stesso trailer, quello entertainment, quindi quello principale. Sì, vabbè, comunque mi sbrigo prima che esca anche quello italiano e quindi questo video diventa subito vecchio. Ritorniamo a fuoco, che dite? Comunque, ragazzi, vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!